Presidente, domani prenderà il via questo nuovo progetto didattico? Sì, da mercoledì 20 aprile inizierà appunto questo nuovo progetto che vuole trasmettere la padronanza del linguaggio visivo e quindi in qualche modo vuole avvicinarci al clima di Centrale Festival, il festival più importante delle marche dedicato alla fotografia di ricerca. Quali temi verranno trattati? I temi sono particolari, cioè partiremo dall'errore fotografico che è una lettura di tipo filosofico che in qualche modo ci dà subito la capacità di fare delle fotografie che sono libere da schemi rettorici. Poi arriveremo anche a fare una fotografia di documentazione un pochino più introspettiva fino ad arrivare alla messa in scena, cioè praticamente a inventarci quello che dobbiamo fotografare. Ecco, sono in programma 5 appuntamenti ma è ancora possibile iscriversi? Sì, tra l'altro la modalità è online quindi si stanno iscrivendo anche persone fuori dalla regione e faremo quindi questo progetto interattivo dove guarderemo degli autori, guarderemo le nostre immagini, le discuteremo e cercheremo di riflettere sul linguaggio fotografico. Venerdì invece è prevista la presentazione di un libro? È un libro davvero importante realizzato da Giovanni Zaffagnini che è un fotografo che viene dall'etnografia ma praticamente oggi è diventato uno dei più importanti fotografi di ricerca e in questo caso con Sorversivi analizzerà alcuni letterati e quindi gli darà la macchina fotografica e quindi questi lavori sono molto contaminati dalla letteratura. E ci sarà anche un ospite d'eccezione? Sì, il poeta Marco Ferri rifletterà sul rapporto tra fotografia e letteratura. A che ora l'appuntamento? Siamo alla sala di rappresentanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano alle 17.30.